Da luogo militare, poi restaurato e portato a nuova vita, a sede espositiva, location ideale per convention e matrimoni, anzi unioni civili. La Fortezza Medicia del Girifalco diventa un luogo di apertura, di scambio e di integrazione sociale e culturale. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni in Fortezza si svolgeranno infatti concerti, spettacoli, eventi e matrimoni, grazie anche agli eventi organizzati dall'associazione culturale On The Move, che credendo fortemente nella parità dei diritti e nella valorizzazione delle diversità, in occasione del Toscana Pride ha promosso la candidatura della Fortezza del Girifalco come futura sede del primo matrimonio omosessuale in Toscana. L'idea è nata proprio dal paradosso che c'è all'interno di questa fortezza. La fortezza ha un'origine militare. Prima era nata per ospitare il corpo di guardia che aveva l'obiettivo di difendere Cortona. Quindi era di fondo un posto con una filosofia militaresca dove la disciplina era assolutamente ferrea. In realtà l'obiettivo dell'associazione culturale On The Move che gestisce la Fortezza del Girifalco è quella di ribaltare il ruolo di questo bene incredibile e farlo diventare un luogo di tolleranza, di pace e di accoglienza. E visto il movimento di cui il paese è protagonista e visto che la fortezza è uno dei posti che nel regolamento comunale può essere adibito alla celebrazione dei matrimoni, ci è venuto subito in mente che poteva diventare una fortezza militare in realtà il simbolo invece di tolleranza, di apertura, di frontiere che si aprono e di accoglienza. E quindi abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa. E se ancora nessuna coppia si è fatta avanti, complice anche la mancanza di modulistica da parte del Ministero degli Interni, non manca il lavoro all'associazione On The Move che ha già lanciato una campagna di crowdfunding per completare il restauro della fortezza. La campagna di crowdfunding fa i volare il Girifalco, una campagna che permette a chiunque è in possesso di una carta di credito di un sito internet di donare per il restauro della fortezza. L'obiettivo è quello di raggiungere 25.000 euro, abbiamo aperto da due ore e abbiamo già 1.090 euro di donazioni. I soldi che vengono raccolti verranno investiti nell'accessibilità del bene, quindi per facilitare l'accesso alla fortezza e principalmente nella rampa di ingresso. L'idea è quella di costruire una community o una comunità che sia in grado non soltanto di partecipare agli eventi che vengono organizzati dentro, ma di diventare protagonisti del restauro. L'entrazione La campagna di crowdfunding fa i volare il Girifalco, una campagna di prodotto. L'indrazione